La tua esperienza come musicista è quella di ovviamente comporre ma ti piace anche proprio viaggiare, conoscere i posti. Sono motivo di ispirazione anche i viaggi, gli spostamenti? Tantissimo, sì. Infatti anche questo progetto che avevo con Ryugo, il fatto che avesse base a Zurigo e che io potessi con facilità pensare di prendere, proprio staccare completamente la spina anche col paesaggio esterno. Questo è importantissimo perché appunto gli stimoli esterni, oltre che quelli interni, sono molto presenti nel mio immaginario anche quando scrivo. Tu vieni da Praia, quindi Calabria, un posto solare, mediterraneo, ecco, si riflette in questo disco oppure no? Nel senso in che cosa magari le tue radici sono presenti? Se ci sono... Questa è una domanda strana, è una bella domanda. È davvero una bella domanda. Guarda, noi quando lavoriamo a qualche album e siamo giù e siamo in Italia, lavoriamo in realtà in Basilicata perché Praia a mare è proprio al confine. E abbiamo una saletta, diciamo così, molto bucolica nei campi, quindi isolata da tutto. E questa cosa è una cosa positiva perché il silenzio intorno in qualche modo ti mette a contatto con te stesso. Fai silenzio anche da tante cose, da tanti rumori che hai dentro, no? Almeno io penso sempre anche in questo modo, no? Come se dovessero sempre coincidere una parte esterna e una parte interna per poter lavorare perché tu in realtà stai attingendo alla tua parte interna, però poi crei una creatura che è appunto un brano, quello che sia, che è esterna, che è tangibile e che è finalizzata la comunicazione. Per cui anche mettersi in un luogo fisicamente che ti rappresenti questo silenzio esterno, questa possibilità di lasciare fluire le idee per quello che sono è fondamentale. Almeno per me, cioè io non potrei essere in un casino totale e avere... Idee c'erano molte anche ovviamente in queste situazioni, però poi quando mi chiudo, tra virgolette, in una fase creativa, allora lì non ascolto musica, che non sia appunto quella a cui sto lavorando. Insomma faccio un po' di ramadame in qualche senso. A proposito di musica, quali sono alcune influenze che possono aver ispirato questo disco? Questa è un'altra bellissima domanda, difficilissima, perché poi in realtà io penso che ognuno faccia un po' la musica che sa fare, no? Però senz'altro mi piace molto Nick Cave, mi piace molto P.J. Harvey, mi piace Bjork, mi piacciono anche poi tante realtà anche un po' più indipendenti, anche italiane, diverse cose. Ispirare? Non lo so, perché appunto come ti dicevo, cerco di non ascoltare musica, di ascoltarne il meno possibile, proprio perché magari un'idea ti viene dentro, un motivetto, una cosa e poi dici oddio. Quindi sembra proprio quella lì, certo. Quindi non lo so in realtà. E invece c'è qualche idea che avresti voluto inserire nell'album e che è rimasta esclusa? Guarda, questo sicuramente, perché come ti dicevo io mi sono data un tempo e ho detto in questo tempo qui quello che esce è quello che mi tengo anche come risultato. Io sono molto sinfonica quando penso a un brano, quando compongo, per cui ho dovuto veramente darmi una regola, perché non avrei potuto chiamare di tutto e di più. La sinfonica che pensi, tanti suoni. Tanti strumenti, tante cose, no? Quindi sicuramente c'è tanto che poteva entrare nel disco e che è rimasto escluso, ma questo, come ti dicevo prima, nasce proprio da questa esigenza di rappresentare, poi di fare uno spettacolo che sia... Ovviamente almeno in parte fedele a quello che tu ascolti. È ovvio che poi è tutto diverso, anche se io adesso devo andare a confrontare l'album con il live che noi facciamo. Il live è un po' più cattivo, è un po' più sonico, mentre l'album è un pochino più sul pop. Però ovviamente quando c'è l'energia sul palco tutto diventa un pochino più a tinte forti. Quindi l'esperienza al vivo è un qualcosa che emoziona, che però nello stesso tempo fa rendere al meglio anche quello che può essere, insomma, la risa di un artista nel senso che... Nell'album i brani sono lì, sono in una forma statica che appunto rappresenta un fotografo a un momento, però il fatto di riprodurli dal vivo... Io quando mi chiedo questa cosa mi rendo conto che non faccio mai un'esecuzione simile a un'altra. Cioè il brano è sempre diverso, a volte cambio la linea vocale, a seconda del momento, a seconda anche dell'energia che mi trasmette il pubblico, che mi trasmettono i ragazzi che suonano con me. Insomma è veramente curioso. Quindi dal vivo come siete organizzati? Batteria, basso, chitaria? No, basso non c'è. Il basso in realtà lo utilizzo io su alcuni brani però con un synth, no? Io ho un 77 tasti valvolare, un piano, un corgo che praticamente mi veicola, diciamo, i miei suoni e poi Massimiliano sta alla chitarra e Cristiano alla batteria, quindi in realtà... Una formazione base. Sì, sì, molto base, senza basso però secondo me per il sound che è uscito fuori, che anche un po' già mi fa immaginare quello che sarà un mio secondo lavoro, sto sempre a pensare in avanti, mi rendo conto che anche come formula mi piace, mi piace.